Ecco il mio albergo Buon altro giorno, altra stanza, altro hotel, oggi sono arrivato a Tropea, qui c'è l'ingascio, io c'ho messo giù la mia roba, io c'ho detto uno gigante, temi armati, ma intanto devo stracce qua pochissimo, una notte, magari due, non so via, specchio del mio prame, e anche qua doccia spaziosa, va bene, ciao, ha un po' dell'hotel di Shining, anche il parche è gigante ma non c'è l'asciutto e niente raga, vado a fare un giro di prelustrazione in attesa che arrivano domani i miei soci, almeno magari so già consigliarli dove andare a divertirsi, non lo so Niente, come sempre bisogna salire, scale su scale, 200 scalini eh e 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 raga bellissima ma se l'umidità pazzesca i messaggi che gli mandano è roba varia attenzione please ma non posso non posso beh raga se è venita tropea non potete non passare per e 54 caffè top poi c'è lui numero uno io cremonese lui milanese siamo tutti qua eh potresti essere la 499 o la 497 o la 5 centesima io faccio la 5 centesima tu fai la 5 centesima esatto e lei sa 501 uomo non donna 54 caffè ragazzi se avete tropea sapete dove già venire a bere cari carmelo lorenzo dylan che hanno fatto lo sbatti di accompagnarmi in un locale dove ce l'avevo video perchè se no ciao ciao chi sei il progetto di non ce n'è non ce n'è non ce n'è il covid sicuro youtuber sei ciao che fai che video fai vlog di viaggio posti abbandonati minchia bravo mi piace mi piace allora secondo me dovete seguirlo perchè questi contenuti mi piacciono veramente io li guardo se mi dice come ti chiami ti guardo allora seguite questo ragazzo mi sta molto simpatico ed è un grande e viaggiate fate quello che volete ciao saluti la tropea vasi e dalle 5 sono qua non ce la faccio più a lavorare sono la metà mia io dico sempre che ho una vita di merda e lui in calabrese e noi di merda ce la potremmo prima un po' fare tra prensi c'è il barman dietro di me che lui dice sempre porco video no adesso mi gusto un po' la vista panoramica e poi voglio un gelato ho ancora mangiato un gelato in due settimane qui abbiamo un panino col tonno super tonnoso appena pescato e vi sta panoramica per la vista panoramica con la vista panoramica e ci sono già un po' la vista panoramica e ci sono già un po' la vista panoramica niente raga oggi è il quarto giorno che sono a tropea mi sono appena svegliato sono sonno della madonna non so se partire stasera domani fatto sta che ho quasi finito la mia vacanza se sono riuscito a rendere l'idea del vacanzone che ho fatto mi farebbe piacere se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo around ciao